Gentili telespettatori, buona giornata. A Fuori dal Coro Mario Giordano esordisce dicendo NO! La colpa è di quegli incapaci. Diciamo che dà degli sberlotti alla sinistra. Di cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando intanto del programma Fuori dal Coro che va in onda su Rete4 ormai da anni. È un programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano. Naturalmente lui è uno abbastanza schietto, esuberante, a molti piace, a tanti non piace per il suo modo di condurre questo programma. Sta di fatto che è un giornalista estremamente intelligente, però ha un modo di sviluppare il programma che a tanti però non piace. Comunque si parla dell'Emilia Romagna, Marche, Veneto, perché c'è stata un'alluvione, alluvione, piogge forti, diciamo delle piogge per un giorno. E poi ci si chiede ma se piove per una settimana che succede? Se per la pioggia di un giorno succede quello che abbiamo visto, ma se dovesse piovere come negli anni Ottanta per due settimane consecutive che cosa succede in Italia. No, chiedo per un amico. Comunque, Mario Giordano esordisce nella puntata parlando appunto dell'alluvione che ha colpito Veneto, Marche, Emilia Romagna. E poi arriva la polemica. Accuse, colpa tua, colpa tua, no colpa tua. E Giordano dice, ci risiamo, alluvione in Toscana, nelle Marche, nel Veneto, danni dispersi. Tutti a chiedersi come sia possibile che succeda di nuovo, negli stessi, identici posti. E aggiunge Mario Giordano, molti danno colpa al cambiamento climatico. Ma è colpa del cambiamento climatico se non si fanno le opere che i disastri li eviterebbero? Io penso che la colpa delle inondazioni non sia del clima che cambia, ma dell'Italia che non cambia, che rimane sempre la stessa nelle mani degli incapaci. A chi si riferisce è abbastanza chiaro, ed entra nello specifico. Prendete l'Emilia Romagna. La settimana scorsa eravamo qua a raccontarvi in diretta l'alluvione. Proprio negli stessi posti dove c'era stata un anno e mezzo prima. Ed è nata una settimana di grandi polemiche. Ma come? I fondi non sono stati stanziati? Sì che sono stati stanziati, dice Giordano. E come? 1,6 miliardi, solo che l'85% di quei soldi non sono stati erogati. E ogni riferimento è puramente casuale, direi. Allora, cosa vuol dire? L'incapacità. Qui però non è incapacità, caro Mario Giordano. Qui parliamo di qualcosa di diverso. Ve l'ho raccontato in un video settimana scorsa. Il governo mette a disposizione 1,6 miliardi. La regione cosa fa? Prende dei soldi e comincia a fare dei lavori. E spende diversi milioni. Cosa succede? Che mancano delle opere fondamentali, essenziali. Tu spendi soldi per pulire gli argini? Va bene. Tu spendi soldi per ricostruire l'argine che è crollato? Va bene. Ma l'argine che tu ricostruisci crolla di nuovo. Il fiume esonda nello stesso punto di prima. Con lo stesso percorso, la stessa forza. Tu metti a posto, rattoppi e l'acqua di nuovo riapre. E allora dite, come mai allora il Veneto ha fatto tutte le opere e ogni volta che c'è un'alluvione in Veneto i danni sono minimi? Non si parla di case sott'acqua in Veneto. Perché? Perché l'Emilia Romagna non ha fatto tutti i lavori? E no. E no. Perché finché pulisci l'alveo del fiume, finché poti il ramo, l'alberello, finché ricostruisci l'argine, lo metti più alto. Hai messo l'argine più alto. Ma la furia dell'acqua ti distrugge anche l'argine più alto. E allora che cos'è che non ha fatto l'Emilia Romagna? Non ha fatto la gran parte delle vasche di laminazione, che sono dei laghi artificiali, di due chilometri di lato, immaginatevi un quadrato di due chilometri per due chilometri, che all'interno contiene centinaia di milioni di metri cubi. Quindi il fiume, quando c'è l'alluvione e si riempie, butta tutta quest'acqua dentro questi laghi, che si riempiono. E così l'acqua non finisce tra i divani e i letti delle persone. Pensate un po'. E sapete che poi questi laghi artificiali, che raccolgono centinaia di milioni di metri cubi, quest'acqua può essere utilizzata poi per irrigare? C'è anche un vantaggio. Ci sono dei laghi artificiali con dentro dell'acqua per l'agricoltura, visto che poi c'è la siccità. La siccità avanza. Si passa da forti alluvioni a mesi e mesi di siccità. E' una caratteristica tipica del cambiamento climatico. E perché non li hanno fatti in Emilia-Romagna? L'Emilia-Romagna è gestita dalla sinistra. Nella sinistra ci sono i verdi, gli ambientalisti, eccetera, eccetera, che impediscono la costruzione di questi laghi artificiali perché rovinano l'ecosistema, rovinano questo, rovinano quell'altro, rovinano quell'altro ancora, e allora bloccano la realizzazione di questi laghi artificiali e così non vengono fatti. Piove e l'acqua entra nelle case, in mezzo ai divani, in cucina, ti distrugge tutto. Danni ingenti, enormi, per non voler fare questi laghi artificiali. Qualcuno ne hanno fatto. La regione è riuscita a fare qualche lago, ma se tu in maggioranza della regione hai chi ti vota contro, e allora i laghi non li fai. E allora continuiamo, continueremo. Ci sarà un'altra alluvione, sarà sempre uguale, la stessa roba. Se tra un anno, sei mesi, un mese, ci sarà un'altra alluvione, saremo qua a ripetere la stessa identica cosa con la sinistra che vi dirà è colpa di Giorgia. È colpa di Giorgia. È colpa di Giorgia. Va bene, grazie a tutti e arrivederci a presto. Scusi Giorgia, ho detto Giorgia, ma era così per fare un po' di... Arrivederci e grazie. Grazie a tutti.